e ciao super tecnicamente fantastici e bentornati appunto voi che siete super tecnicamente fantastici video sempre dalla parte degli utenti e allora devo salutare l'utente più veloce dello scorso video Gianni Puglia ciao Gianni e chi per primo arriverà in questo video ovviamente super saluto come voi sapete nel prossimo video video che parla della nuova tariffa di Iliad ma per la prima volta c'è una mega sorpresa si Iliad è superata è superata da Spuso a mio modo di vedere assolutamente per la prima volta è una tariffa che secondo me non fa l'effetto wow anche se è una buona tariffa ma non fa l'effetto wow secondo me Spuso prende il sopravvento ne parliamo assolutamente in questo video ma prima vi ricordo like iscrizioni e la campanellina siete sempre di più grazie e vi rispondo sempre e voi lo sapete che vi rispondo sempre nel limite del tempo e sotto tutti i social appunto per contattarmi trovate tutti i link Amazon voi comprate per sostenere il canale in quei link e avrete le stesse offerte che vi fa Amazon ma tramite il link del canale così partecipate anche voi al discorso del canale Amazon allora ragazzi parliamo velocemente velocemente per modo di dire ci vuole sempre un tempo per fare un video soprattutto perché a me piace strutturarli bene allora la tariffa nuova di Iliad prima impostiamoci su che tariffa ha lanciato Iliad una flash che dura ancora 30 giorni 31 con oggi fino al 21 di gennaio 70 giga 4g 4g plus 5g incluso quindi come vi avevo detto io avevo detto due cose andate a vedere i video ve le ricordate prima di fine anno usciranno tariffe di Iliad flash e fisse che andranno a sostituire le 50 giga arriverà al 5g il 5g è arrivato la linea fissa nel 2021 arriva tra poco la tariffa flash arrivata non sono ancora arrivate le tariffe fisse a catalogo ma è questione di giorni potrebbero arrivare prima di fine anno o massimo con gennaio quelle permanenti che sostituiranno le 50 giga le 40 giga che potrebbero essere più vantaggiosa anche di questa questa è una 70 giga come vi ho detto fino al 5g incluso minuti sms limitati e 6 giga in roaming ovviamente verso tutti i quasi paesi europei poi c'è anche canada usa anche a livello internazionale ci sono dei paesi inclusi nei minuti nel sms ci sono i 6 giga anche per operare fuori per sempre per davvero allora i punti di forza di questa tariffa sono ben anzitutto c'è il 5g incluso non te lo fanno pagare e questo da Iliad sicuramente me lo aspettavo sapendo la trasparenza che hanno l'innovazione e la mentalità il fatto comunque che per sempre per davvero senza rimodulazione e sta dalla parte del cliente sempre e questo anche questo me lo aspettavo da Iliad e quindi i punti di forza sono il solito diciamo il solito tema della trasparenza e della ricerca del contatto sempre col cliente della fedeltà e soprattutto di essere sempre dalla parte del cliente di far essere chiara trasparente pulita di dare una tariffa per sempre forse l'unica veramente che la dà per sempre con spuso e per davvero e con cop voce anche possiamo dirlo che anche loro fanno le tariffe per sempre poche comunque veramente pochi il 5g incluso mi piace 70 giga non sono pochi il prezzo non mi piace assolutamente ecco per la prima volta secondo me questa tariffa al di là che poi Iliad abbia in mente di mettere a catalogo una tariffa anche fisso 2 per dire 120 giga 9 99 che superiore a questa toglie la flash poi ti mette una fissa migliore lì stavamo a fare i complimenti come ho sempre fatto però questa tariff in questo momento avendo lanciato una flash da 100 giga anche senza il 5g allora io capisco che metti il 5g incluso ma 9 99 70 giga non sei nel mercato se con 100 giga a 9 99 comunque per me per sempre per davvero per chi Iliad è il top dai punti della trasparenza e dell'innovazione che ha portato anche se sei 2 euro in più di chi la fa come magari la buona a 7 99 ma non c'è paragone tra le due aziende di cui Iliad era assolutamente competitiva a 9 99 anche se non era il prezzo proprio più basso però averne no ma 70 giga in questo momento a quel prezzo io non li vedo secondo me pagati giusto secondo me è un prezzo troppo alto non è non mi interessa il 5g tu dovevi fare 100 giga come la tariffa di prima che era quella 4g 4g plus col 5g incluso basta questa era la soluzione quindi a questo punto cosa succede questa tariffa è promossa con riserva cioè voglio dire non è la tariffa wow non è la tariffa ok che spacca è una buonissima tariffa la promuoviamo con la riserva che però il prezzo è alto chiaro 70 giga col 5g incluso a 9 99 quando ti fanno pagare quasi tutto il 5g a parte è sempre Iliad però per la prima volta non posso dire onestamente bisogna essere bisogna essere assolutamente imparziali che la tariffa wow no perché se io vado a prendere spuso 5 98 150 giga di partenza con la riserva parto da 50 già 5 98 è basso anche lì però ci sono 20 giga di differenza però per sempre ma soprattutto quella da 9 99 300 giga di partenza minuti non illimitati 2000 ma sono tanti 500 sms praticamente illimitati togliamo il discorso dei minuti togliamo il discorso dei minuti sulla luna da 9 99 ragazzi sono 300 giga contro 70 anche che vuoi svuotare un po la riserva avrai come minimo sempre 100 120 giga ma i 70 pari sicuramente ce li hai ma secondo me di più perché parti da scusate anzi no parti da 100 giga scusate quindi parti da 30 giga fissi in più a 9 99 con 200 giga di riserva in più senza i limiti di banda come come illiad quindi non ci sono per sempre come illiad ragazzi se io prendo la tariffa di spuso non ci entra a fare questa volta spuso vince e supera secondo me l'unico operatore virtuale all'altezza di un operatore fisico l'unico operatore virtuale che va davanti a illiad in questo momento come tariffa secca non come complesso illiad rimane il numero uno secondo me ancora però capite che 100 giga di partenza contro 70 allo stesso prezzo però minuti illimitate da una parte 2000 dall'altra secondo me pesano di più 30 giga ma 300 giga di partenza e vai a svuotare una riserva del genere averne anche 150 vuol dire averne già il doppio fissi di quelli lì e poi si ricarica comunque la riserva se non utilizzi quindi ragazzi secondo me col cambio tariffa sempre comunque incluso in questo momento gratuito via whatsapp e tac che invece illiad non ti dà quindi ragazzi attenzione perché spuso sta facendo ha fatto una tariffa due tariffe fortissime e sta salendo sta salendo forte veramente questa è un'altra è un'altra tariffa che sta sta andando forte questa tariffa di spuso facendo tante attivazioni quindi vedo veramente un qualcosa di di nuovo per la prima volta diciamo illiad che ha un avversario degno finalmente di competere ma sono i miei due operatori preferiti quindi che sia spuso aver superato con una tariffa illiad sono contento perché spuso la mentalità pulita innovativa per sempre guardate che prezzo guardate che ho fatto un'intervista avete visto che persone alla mano che sono no voglio dire sempre disponibili e mi piace funziona bene non ha limiti di banda non ha quella mentalità assassina di vincolare la gente che a me non piace ve lo sapete quindi bene che la tariffa migliore del mercato secondo me è la luna in questo poi possiamo prendere veri mobile che ti dai 100 giga a 699 però lì parliamo limiti di banda 30 mega c'è qualche vincolo c'è il coso dei minuti non sono 300 giga di partenza però quella lì è competitiva quindi illiad con questa 70 giga è inferiore anche quella lì come numero di giga quindi però secondo me è superiore nel complesso a veri mobile ma attenzione perché ci sono parecchio però anche la buona se togliamo i costi di attivazione ha fatto delle tariffe ragazzi che sono devo parlare di un'altra tariffa di uno mobile devo fare un altro video tenetevi incollate che questa settimana arrivano dei video pazzeschi anche una volta ha fatto una tariffa di natale forte con parecchi giga un prezzo competitivo quindi secondo me questa mostra del 5g incluso me l'aspettavo è buona ma il prezzo è out stavolta il prezzo è out non ci siamo secondo me non ci siamo al 799 era il prezzo giusto di questa tariffa di illiad 70 giga o 100 giga col 5g incluso potevi fare 1099 tu ti dava un euro in più per il 5g era secondo me più centrata sicuramente o 999 col 5g e i 100 giga quindi direi uno guadagno espuso scende leggermente illiad anche se comunque ragazzi una tariffa 5g incluso 70 giga per sempre per davvero con i minuti sms con roaming all'estero con illiad non è da sottovalutare è da fare io sto parlando una buonissima tariffa però onestamente non mi dà l'effetto wow non mi convince stavolta questa po insomma sto prezzo un po io capisco che illiad ha un marchio ha una mentalità è come apple no si fedelizza il cliente poi il cliente rimane perché capisce che c'è dall'altra parte la disponibilità verso l'utente non c'è il vincolo l'utente apprezza loro hanno il loro prezzo perché danno dei servizi tutti inclusi non ci sono dei costi per quello che giustifico è una buonissima tariffa devi guardare anche il mercato devi guardare in questo momento ci sono veramente dei competitor che sono forti c'è spuso un competitor forte è vero immobile un competitor forte team anche loro anche loro sforano i 100 giga sotto i 10 euro quindi 3 te li da se no c'hanno il vincolo dei 24 mesi quelle porcate lì però sudate il termine quelle cose lì però però ci sono prezzi più bassi quindi sia i compagni fisici vodafone team vicino sono aggressivi di più e poi gli operatori virtuali sotto che comunque poi spuso per me è paragonabile un operatore fisico come copvoce con voce la mentalità di operatore fisico peccato che a quei prezzi però la qualità superiore agli altri operatori virtuali poste mobile potrebbe essere superiore a quello che essere se fosse meno contorta spuso un operatore fisico camuffato ragazza una potenzialità incredibile quindi questo momento per al mio modesto parere la tariffa migliore rimane quella di spuso non viene superata da questa anzi è escluso che secondo me scavalca illiad con la sua tariffa ma anche altre tariffe in questo momento sono più allettanti di questa qua di illiad secondo me il discorso 5g lo danno anche i team e volta fa vero che paghi qualcosa però comunque con dei prezzi similari un po più alti il 5g te lo danno di conseguenza non è quello secondo me non è quello il punto la leva giusta la leva giusta per dire al cliente è totti do il 5g però non è non è la leva giusta quindi neanche quello secondo me non fa convincere l'effetto wow alla tariffa detto questo beh una buonissima tariffa ci aspettiamo la linea fissa che farà scintille con i giga inclusi ci aspettiamo le nuove tariffe internet le nuove tariffe fisse che devono arrivare che sicuramente saranno delle bombe saranno qua pronto a dare dei giudizi come sempre però stavolta il giudizio è un 7 e mezzo ok 7 7 e mezzo c'è una tariffa che ci sta la mette a catalogo però secondo me non è nel mercato come prezzo però interessante soprattutto che il 5g sia incluso ma parliamo chiaramente il 5g c'è in otto città abbiamo una copertura del 25 30 per cento in italia quindi non è che in questo momento il 5g è utilizzatissimo vero che gli smartphone da due trecento euro incominciano avere il 5g però non è molto la copertura è molto risicata e poi 4g 4g plus viaggia a velocità due trecento mega ragazzi non c'è sta necessità 5g è il futuro ma attualmente anche includerlo non ha questo effetto diciamo è comunque ragazzi per questo video è tutto ci vediamo ai prossimi ciao da paolo uguala grazie come sempre ciao